PEGI 18 Agente Kidman Siamo svegli? Ma il ragazzo, Leslie, sta dicendo che è un soggetto compatibile? Sapevano di cos'era capace Leslie Riportaci il ragazzo Leslie! Oh merda! Tu non capisci Non sai cosa diventerà Sappiamo esattamente cosa diventerà Hai paura di noi! Ci sono cose qui che devono rimanere segreti No! Sta lontano da me! Basta con il regno Tutto questo progetto è un inganno sin dall'inizio Nusen che ti fidi di lui Devi solo obbedire Infazziti tutti Infazziti tutti Infazziti tutti Grazie a tutti! Buongiorno!